La scuola dell'infanzia Carlo Collodi ora è più ampia, moderna, funzionale e più green. Questa mattina sono stati inaugurati i lavori recentemente terminati presso la struttura di via Indipendenza nel quartiere Pompillo Due Pini che hanno visto l'ampliamento volumetrico del polo scolastico esistente con la realizzazione di due nuove aule didattiche e dei relativi servizi igienici delle nuove sezioni. Inoltre è stata realizzata un'ampia terrazza didattica per le attività all'aperto. Un lavoro fatto in meno di un anno per circa 630 mila euro, 300 metri quadri in più di scuola che passa da 25 bambini a 75, quindi un ampliamento fatto bene, fatto anche veramente in poco tempo e che ci consente in questo quartiere di ampliare una scuola. Nella riorganizzazione che stiamo facendo è molto importante perché come sapete stiamo riorganizzando un po' tutte le scuole, in particolare dagli asili alle primarie. È stato aumentato lo spazio di 230 metri quadrati, due aule da 55 metri quadrati, più ovviamente i bagni, nonché una terrazza di 60 metri quadrati. Una struttura nuova che risponde ovviamente a tutti gli ultimi criteri, in particolare per quello che riguarda l'antisismica e per quello che riguarda l'efficientamento energetico perché è un edificio in classe energetica A3 completo anche di impianto fotovoltaico. Martinelli spiega anche che alla scuola Collodi sono intanto stati trasferiti anche i piccoli alunni della Tom Sawyer di Borgo Chiesa Nuova e che quello nella struttura di Via Indipendenza è uno dei primi interventi con fondi PNR ad essere chiusi. A tal proposito, l'assessore dichiara che in città oltre il 90% dei cantieri con fondi PNR è ormai stato avviato.